Ricarico! Lontani dall'esplosione! La squadra d'attacco ha eliminato i difensori! La squadra d'attacco ha eliminato i difensori! La squadra d'attacco ha eliminato i difensori! nuovo caricatore bene bene sarà finita in un attimo rimane un nemico difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti ultimo attaccante rimasto in vita hanno trovato una bomba sapete cosa fare vittoria alla difesa nemici eliminati l'operatore d'attacco mancano 15 secondi mancano 5 secondi l'innescatore attivo proteggetelo a tutti i costi difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti non 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 non